E oggi conosciamo Giovanni Verazza, un imprenditore partito da San Luri e arrivato nelle prime pagine, anzi in copertina di una delle più importanti riviste del settore del air styling. Ecco Giovanni, tu sei partito proprio da casa nostra, dalla nostra San Luri, che cosa è successo poi? Beh, è stata un'esperienza lavorativa increscendo, io ho una formazione classica, quindi ho la scuola scolopiana, come gran parte dei sanluresi e poi sono entrato nel settore, dopo aver compiuto studi riguardo al mondo della biologia, della biologia marina in particolare, mi sono dedicato alla cosmesi a diversi livelli, prima nel settore dei parafarmaci, dopodiché ho scoperto il grande amore per la cosmesi classica, quella per l'air dressing in generale. Ho lavorato per diversi anni come direttore in un'azienda che mi ha dato la fortuna di poter girare, fare formazione in tantissimi paesi esteri, fino a che poi è nata l'idea di creare il mio brand. Ecco, tu a un certo punto hai detto basta in un certo modo, voglio creare qualcosa di mio e hai creato un'azienda di cosmesi tutta tua, partendo poi dai tuoi studi di biologia marina. Che cosa è successo, che cosa ti ha fatto cambiare vita? Allora, il focus l'ho sempre avuto bene a mente, noi sappiamo bene che quando vogliamo raggiungere un obiettivo è il focus che non deve essere mai perso di vista. Ho sempre avuto l'idea di arrivare al punto finale, cioè avere un mio brand che in qualche modo avesse una radice bio, che quindi lasciasse i collegamenti con il petrolio e quindi con il petrolchimico, la chimica più cattiva per intenderci, in maniera molto molto marginale e potesse arrivare a fornire degli strumenti professionali validi e realmente funzionanti, evitando quindi tutto quel cattivo che finora ci siamo purtroppo messi sui capelli. La mia passione per il mare poi mi ha permesso di scoprire tutte le più svariate possibilità che anche le alghe marine e i loro campi di applicazione potevano avere sui capelli, fino a che poi da quello si è partito per creare la formulazione dell'intera linea. Ecco, quindi da questa rivista, per esempio, viene definito un astro nascente nel campo dei prodotti cosmetici. Tu usi le alghe, un prodotto che viene dal mare, che può darci tanto? Può darci tantissimo. Io penso che le alghe marine siano ancora utilizzate in maniera molto marginale nella Cosmesi. I primi ad aver fatto qualcosa in questo senso sono stati gli americani, che hanno utilizzato le alghe marine per la Cosmesi, che va ad attuttire tutte le problematiche dei cedimenti della pelle. Ok? Quindi un ottimo partner, per esempio, di un acido ierlonico, sostanze rivitalizzanti, energizzanti. Mi sono chiesto perché non applicare questo anche al mondo del capello. Dopo diversi test e diversi studi siamo arrivati a delle formulazioni che sono veramente performanti. Ecco, ora tu vendi tutto il mondo. Non è stato facile. Naturalmente, come dicevamo prima, bisogna avere il focus. L'idea, sì, è vincente, ma non basta l'idea. Bisogna avere anche coraggio e conoscenza, capacità, professionalità, essere circondati da un team. La professionalità è la cosa principale. Io ritengo sempre che alla base di ogni azienda sia necessario avere un team di persone esperte dalle quali poter prendere il meglio. Da soli non si va da nessuna parte. Quindi, se io dovessi dare un consiglio, per quanto posso averne ancora bisogno di tanti consigli, visto che il mio obiettivo è ancora lontano dall'essere raggiunto, è quello di circondarsi del numero maggiore di possibili persone preparate, che riescano a darti il meglio in ogni singolo campo. Credetemi, anche qua in Sardegna abbiamo moltissime persone preparate, ma soprattutto abbiamo moltissime materie prime di origine botanica. Quindi non penso solo al mare, ma penso anche alle erbe officinali, che potrebbero essere utilizzate ad alti livelli nella cosmetica.